L'Italia ha bisogno di riforme se vuole rilanciarsi davvero, credere nel suo futuro e dare una speranza ai nostri cittadini. Salvini vuole bloccare la vera missione del governo Draghi e sprecare questa grande occasione derivante dalle straordinarie risorse europee. Basta giochini, è ora di decidere da che parte stare. Noi siamo dalla parte degli italiani. A Napoli si continua a discutere per un possibile candidato. Figo sembrerebbe pronto. L'alleanza con il Partito Democratico può andare avanti con il nome di Figo, candidato a Napoli? Lei sa bene che c'è un tavolo di coalizione centrosinistra convocato da varie settimane. Si sta discutendo del programma più utile e necessario al rilancio di una grande capitale quale Napoli. Stiamo lavorando per una coalizione quanto più unitaria possibile, anche con i 5 Stelle, all'interno di un quadro di centrosinistra. A breve credo che si arriverà alla definizione di un candidato che sia autorevole, credibile e il miglior amministratore possibile per il futuro della città di Napoli. Grazie.